vado nella parte di più ricerca stazione di ricarica posso anche selezionarla dal diciamo dal navigatore oppure proprio selezionarla da qui eccola aspetta 10 metri l'ha trovata avviare la ricarica ok quella veloce 60 kilowatt vado a collegare connettore e così parte la carica è già partita tramite il sistema mercedes mi col mercedes mi charge quindi con l'abbonamento fatto la carta di credito questo tramite le mbx della vettura altrimenti possiamo farlo con la carta di enel x o attraverso l'app che possiamo scaricarci al telefono e Grazie per la visione!